L'assessore Fabrizio Bracco ha illustrato in seconda commissione il documento di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016. Bracco ha sottolineato come questo è il primo strumento di programmazione settoriale predisposto con il nuovo sistema di turismo Umbro, frutto del lavoro del Comitato di coordinamento per la promozione turistica integrata. Il piano rileva come negli ultimi anni di crisi le presenze turistiche in Umbria si sono attestate sulla soglia dei 6 milioni con un tendenziale aumento degli arrivi e una diminuzione della permanenza media. Nei prossimi anni si punterà su sviluppo tecnologico e innovazione, sul nuovo portale turistico e sul sistema delle app. Per promuovere l'Umbria si punta sulla qualità ambientale e su quella delle strutture e dell'enogastronomia. Per questo il documento vuole aiutare il sistema delle imprese a migliorare adeguandosi a questi standard. Dall'analisi dei flussi turistici emerge come Perugia, Assisi e il comprensorio del Trasimeno raccolgono quasi la metà del turismo Umbro. Tutto il resto se lo dividono l'Alto Tevere, l'Eugubino, la fascia Penninica, la Valnerina che è in forte crescita, il Nernese-Amerino, l'Orvietano e il Tuderte. I dati mostrano come i turisti italiani provengono principalmente dal Lazio, Lombardia e Campania. Paesi Bassi, Germania, USA e Belgio si confermano i quattro paesi da cui provengono prevalentemente i turisti stranieri.